Nelle mie fotografie non ho mai ottenuto il risultato che aspettavo prima di scattare. Dopo lo sviluppo erano sempre migliori oppure peggiori. Credo davvero che ci siano cose che nessuno riesce a vedere prima che vengano fotografate. Una fotografia è un segreto che parla di un segreto. Più essa racconta meno è possibile riconoscere. Tu vedi una persona per la strada e la cosa fondamentale che noti è il suo difetto. Quello che cerco di descrivere è che è impossibile uscire dalla propria pelle ed entrare in quello altrui. La tragedia di qualcun altro non è mai la tua. Alla prossima mi raccomando iscriviti al canale.